è una bella emozione una bella emozione perché poi tra le altre cose io non sono abituato a fare conferenze stampa così e entrare in questo stadio entrare negli spogliatori conoscere i magazzinieri è un'impressione forte un'emozione forte e poi come ho detto ma lo ripeto è una grande responsabilità la società verso il territorio ce la metteremo tutta perché francamente la serie c'è un pantano è veramente difficilissima come come è stato dimostrato oltretutto l'altro ieri cambiano le regole non si capisce come saranno i campionati contro chi dovremmo allora se riusciamo a toglierci da questo pantano più fredda lo facciamo e più saremo contenti noi siamo un marchio che è molto seguito nel mondo del calcio e dello sport in generale perché facciamo dei prodotti che evidentemente piacciono agli sportivi stone island non c'entra quindi non saranno sponsor ne farà le divise nulla è un'iniziativa della famiglia della finanziaria della famiglia che si chiama rivetex e quindi il marchio non c'entra ci saranno delle ricadute è possibile saranno gradite però diciamo non ci sarà un impegno diretto